. Uomini e donne Ultime news, Gemma abbandona la trasmissione con Giorgio Gossip Uomini e donne, Gemma lascia la trasmissione con il suo amato Giorgio? . Grandi novità sono in arrivo a Cancelletto Uomini e donne Trono Over, dove in queste ore Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscosse della trasmissione di Maria De Filippi con le sue tormentate storie damore che tuttavia ogni pomeriggio attirano lattenzione di milioni e milioni di spettatori. . Sì, perché la prima puntata di Ued Over, dedicata regolarmente alle avventure della dama torinese riesce ad attirare sempre lattenzione di oltre 3 milioni di spettatori permettendo così al programma di Maria De Filippi di registrare il miglior risultato della settimana. . News Uomini e donne, Gemma confessa, amo ancora Giorgio. Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne Over? Le gossip news di queste ore rivelano che la Galgani troverà il coraggio di confessare il suo amore a Giorgio Manetti. . Sono passati due anni da quando i due si sono detti addio in maniera ufficiale, ma a quanto pare Gemma non è riuscita ancora a dimenticarlo e il cavaliere ha un posto importante nella sua vita. . Gemma confessa di aver ripensato a Giorgio nel momento in cui ha letto una sua recente intervista in cui diceva che per lui la Galgani rimane una delle donne più importanti della sua vita tra quelle che ha avuto modo di conoscere nel parterre della trasmissione di Canale 5. . Parole molto forti che hanno riaccesso la fiamma e la speranza in Gemma, la quale in pochi secondi ha spazzato via la sua nuova storia con Guido, che sembrava essere realmente interessato a lei nonostante la netta differenza detà. . Gemma vuole lasciare uomini e donne con Giorgio? E invece anche questa volta Gemma si è gettata tra le braccia del cavaliere toscano che proprio non riesce a cacciare via dalla sua vita sentimentale. . Le ultimissime news di oggi su Uomini e Donne Over rivelano che per i due ci saranno i delle grandi novità nel corso dei prossimi appuntamenti. . Le anticipazioni sul trono over, infatti, rivelano che Gemma ha scelto di fare per lennesima volta un passo in avanti e ha chiesto a Giorgio di uscire a cena con lei, così da poter parlare un po senza essere disturbati da Tina Cipollari. . Giorgio ha accettato l'invito della dama e insieme si sono recati in quello stesso ristorante dove fecero la loro prima uscita di coppia in esterna. . Cosa succederà adesso? Le premesse sembrano esserci tutte per vedere un ritorno di fiamma e questa volta si vocifera che Gemma sia davvero disposta ad abbandonare la trasmissione con il suo amato gabbiano. . .